Avevo poco più di dieci anni, troppo pochi, per avere piena coscienza di quello che mi stava accadendo. Il vostro voto è importante per me perché rappresento voi. Chi sei tu? C'è un lato. Ma tu sei il nuovo presidente del paese? E cosa stai disegnando? Questo sei tu. Questa è tua mamma alla finestra. E questo è tuo papà, cancellato. E perché lo cancella il papà? Adesso noi facciamo quel bel giochino. Che piacere tanto è papà. Sotto una doccia. Ma lasciamo? Ma Luigi, cosa intende dire? Io intendo dire che a questo bambino c'è qualcosa che non va. A casa c'è qualcosa che non va. Il bambino è il figlio del consigliere. Non dimentichi che io sono il padre. Tu sei fortunato due volte, cioè con la famiglia. Tu non ce l'hai. E' una bu... Una bu... Una bu... Una bu... Codella! Lei è la padre. E' solo uno dei primi figli che mi fa andare avanti. I wanted to. Luigi, io la credo. Ma non abbiamo prova a sufficienza. Non ci muovono, Luigi! L'ammazzo! Aiuto! Luigi, amici. Consiglio, io ci ho messo pochi giorni per cambiare. E' perché non sai il resto. Che è vero che mercoledì riparto. Ma parti anche tu. Vieni in America. E l'ho trovato pure un buon lavoro a New York. Ti piace New York?